Salve a tutti cari amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Assi e bilancieri. Come promesso vi faccio vedere gli ultimi restauri, avete visto il prima nel precedente video, adesso vi faccio vedere i lavori ultimati. Abbiamo due Lojin 30L, uno splendido Omega 268 Sob, cosiddetto, e un Lojin 23Z. Come sempre iscrivetevi al canale, è molto importante, lasciatemi un like se il video vi piace e un commento, così mi aiutate a capire se sto facendo bene oppure no, ho anche qualche richiesta di informazioni. Ad ogni modo, per una risposta più veloce, potete contattarmi al numero Whatsapp che vedete apparire qui sotto. Importante, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, che è questa che vi rimetto. Poi troverete tutti i miei contatti nella descrizione del video. Più nella descrizione del video, troverete il precedente video per capire come erano messi gli orologi. Solo che una storia da raccontare può essere raccontata, anche attraverso un restauro si può raccontare una bella storia. A voi il video. Allora, facciamo un po' il focus sui lavori. Se vi ricordate avevamo un Omega 268 Sob degli anni 40, 1943, il Longin 30L dell'amico Bruno, che aveva bisogno di una revisione, il Longin 30L che stavo finendo io, se vi ricordate mancava la corona e mancava qualche altro ritocco alla cassa, più il Longin 23Z, molto bello questo con anse a goccia. Allora, andiamo subito a vedere cosa abbiamo fatto. Allora, per quanto riguarda l'Omega 268, era un orologio già revisionato e perfettamente funzionante. Infatti l'ho messo al cronocomparatore e è perfetto. Qui ho dovuto operare la ritriziatura, la rilumatura delle sfere, perché in pratica le precedenti sfere non avevano il radio originale, ma avevano già una sorta di trizio, una pasta luminosa che era molto economica. Quando prendi la pasta luminosa economica, in effetti diventa gomma, diventa molto gommosa. Mentre quella che uso io, che è una pasta che costa circa 36 euro, una boccetta da 10 ml, in pratica è solubile in acqua, senza solvente, e quindi rimane più pastosa e rimane più granulosa a lungo, oltre a restituire una luminescenza ottima anche nel tempo. Ho intonato naturalmente il colore della pasta luminescente agli indici del quadrante, insomma è stato un bel lavoro, e poi ho provveduto a lucidare la cassa e il vetro, più mettere la sua corona a scalino in acciaio. Negli anni 40 Omega non lo gava nei vetri e nelle corone ancora, quindi la corona era presso a poco questa che ho messo io, confrontata un po' con le plance dell'epoca, e montava una corona a filo, a scalino, come quella che ho montato io, cercando quindi di ripristinare tutta l'originalità dell'orologio, che è davvero molto bello e conservato in condizioni incredibili. Poi ho messo un cinturino verde oliva, che come vedete ha in pratica le impunture bianche intonate al biancolatte del quadrante, e il verde è intonato agli indici. Devo essere sincero, è venuto davvero un bel lavoro, non perché l'ho fatto io, ma mi piace tantissimo, le precedenti sfere erano brutte, queste sono le originali e ho provveduto a rilumarle da capo. Poi il longjin dell'amico Bruno, che ha avuto bisogno di una semplice revisione periodica, devo essere sincero, l'orologio è molto bello, in pratica è in condizioni di casse e di quadrante molto buone, la corona naturalmente originale, qui ho fatto soltanto un restauro conservativo, nel senso che ho provveduto soltanto a revisionare il movimento, però vi devo far vedere una cosa a cui tengo molto, l'orologio è bello, da premettere, poi vi faccio vedere poi dopo l'importanza dei ricambi originali. Allora, queste sono le bride del movimento, ferma movimento con le viti, come potete vedere sono diverse tra di loro, non solo sono diverse tra di loro, ma non sono neanche quelle originali, probabilmente hanno preso due bride e le hanno sagomate in un caso, e poi due viti che praticamente erano adatte al foro nella platina per fermare il movimento. Per il resto non ci sono stati grossi limiti, grossi handicap nella revisione del movimento, perché era in ottime condizioni e l'orologio è anche esteticamente molto molto bello, come potete vedere. Anche le sue sfere originali, io ho messo questo cinturino con effetto martellato verde che mi piace tantissimo, e poi questo ha anche la sua fibbietta originale logata a Longin, molto molto bello, davvero complimenti all'amico Bruno. Adesso veniamo al vero protagonista di questo video, che è il mio Longin 30L, quello che stavo restaurando. Allora, questo orologio, come vi disse all'inizio del video, se lo avessi acquistato un cliente per farlo mettere a posto, probabilmente non sarebbe valsa la pena, perché l'orologio l'ho pagato 80 euro. Mi è arrivato innanzitutto con un bilanciere del 302, che non sarebbe stato tanto un problema, se non che in pratica il ponte del bilanciere era privo di pietra contro pietra e racchetta. Quindi il costo per ripristinare quel ponte, ho preferito comprare il suo bilanciere originale del 30L. Ma purtroppo le sorprese, le magagne non sono finite qui, perché mancava la sfera dei secondi, e il pignone della ruota dei secondi era spezzato, quindi ho dovuto comprare anche la ruota dei secondi. In più non c'era né corona né albero, io ho trovato la sua corona originale, che mi è costata un botto, 50 euro costano queste corone, più l'albero di carica. Quindi, ruota dei secondi, sfera, albero di carica, corona, andiamo a vedere all'interno, poi dopo vi farò vedere la cassa, perché poi l'importanza dei ricambi originali. Ho dovuto prendere poi il suo bilanciere completo, perché il ponte del 302 ha la regolazione micrometrica, non è questa, questa è una regolazione tradizionale, il 302 è già più moderno, quindi ho dovuto prendere bilanciere e ponte, più il copribascolo, che adesso non vediamo, ma era pieno di ruggine, e le sue bride ferma a movimento, con le sue viti. E qui è anche importante, naturalmente, affidarsi a fornitori professionisti, a fornitoristi, che sono dei veri professionisti, io mi affido a un fornitorista molto bravo, che è fornitissimo, però, giustamente, i ricambi si li fa pagare. Queste due bride, complete delle viti, costano 40 euro, perché sono originali, lungini. Devo essere sincero, noi in Italia, pecchiamo un po', sulla fornitura di questo tipo di ricambi, e sulla fabbricazione di questo tipo di ricambi. Se per esempio, andate in Inghilterra, ci sono degli artigiani, che riproducono questo tipo di, parti di fornitura, ruote, bride, viti, per riportare un orologio all'originale. Noi qui la titiamo un po', devo essere sincero, e siamo costretti ad acquistarle fuori. Poi, vediamo un po' la cassa. Allora, adesso un attimo solo che la chiudo, così evito di, insomma, fare danni. Un attimo solo. Ecco qui, questo altro lato. Allora, la referenza va sul fianco, perché poi c'è l'invito per l'apricasse, per poterlo, poterlo aprire. Ecco qui. Allora, la cassa, lucidatura del fianco, della carriur, dell'anello fermavetro, e poi satinatura del fondello. Anche questo è venuto un bel lavoro. Chiaramente, chiaramente, tra bride, bilanciere, insomma, ruota dei secondi, revisione e quant'altro, siamo oltre, e il costo dell'orologio siamo oltre i 300 euro. Quindi, perciò vi dico, al collezionista non sarebbe convenuto comprare un orologio del genere. D'addetto ai lavori, risparmio qualcosa sulla revisione, perché la faccio io, e quindi ha un senso acquistarlo, ma altrimenti questo sarebbe andato di diritto negli orologi da cannibalizzare per ricambi. Però a me dispiaceva tantissimo ed è avvenuto, insomma, credo un bel lavoro. Carino. Già è stato venduto, tra l'altro, perché me l'ha chiesto un gentile utente. Adesso andiamo a vedere invece il 23Z con queste splendide anze a goccia. Allora, su questo orologio ho praticamente fatto una revisione periodica. Aveva due problemi, fondamentalmente. Allora, il primo, che le sfere, suppongo, originali, insomma, toccavano la clessidra alata, lo stemma che c'è a ore 12 del quadrante, facendo praticamente fermare l'orologio e poi la sfera dei minuti era storta. Poi ho provveduto a rinvenire le due sfere e poi magari in un altro video vi faccio vedere insomma questa operazione come si fa. Non è proprio semplicissima, bisogna avere molta pazienza. Poi ho provveduto a lucidare la cassa, cassa in acciaio con anzi a goccia bellissima, lucidare un po' il vetro e satinare il fondello a pressione. L'orologio è molto carino. Aveva un problema che adesso vi mostro sul bariletto di carica che lo faceva marciare male. Questo è un particolare della satinatura che secondo me è venuta molto bene, è carino l'orologio finito. Allora, qui apprezziamo intanto il movimento 23Z che diciamo al pari del 30L e questo è leggermente più vecchio. Ha sempre i controcastoni dorati molto carini, l'anglage sui ponti, la satinatura mille righe, la doppia vite sulla ruota corona, insomma è un bel movimento che marcia anche piuttosto preciso. È piccolino, infatti vedete l'anello di ritenuta nella cassa, però è un orologio, è un movimento davvero molto carino che testimonia come Longin faceva davvero le cose per bene con movimenti di manifattura. È un peccato vedere che oggi purtroppo fa orologi molto diversi. Adesso rimettiamo il fondello che naturalmente ha sempre il suo invito, all'interno è tutto fresato, molto carino, è un orologio davvero davvero bello. Complimenti a Daniele perché è davvero un bel pezzo, davvero è un bel pezzo. Io insomma ho lucidato una cassa che già era in ottime condizioni, ma me la sono sentita di fare, non me l'aveva chiesto, ma gliel'ho regalata io come come cosa perché davvero mi interessava riportarlo allo splendore che merita questo splendido orologio. Adesso vi mostro un attimo il problema che aveva con il pezzo che ho dovuto cambiare per ripristinare il corretto funzionamento dell'orologio. Allora, qui qual era il problema? in pratica il coperchio del bariletto era deformato perché come vedete qui c'è un dentino che serve a tenere la molla tra il bariletto e il coperchio per non farla slittare. Infatti vedete il bariletto è forato e c'è il dentino della molla all'interno che è riempito diciamo dalla molla. Da quest'altro lato in pratica il coperchio del bariletto era stato pressato su questo dentino ed era deformato e quindi non chiudeva bene inficiando la marcia dell'orologio. In effetti l'orologio insomma marciava male e quindi per evitare problemi perché nel forzare sicuramente anche l'altro lato del bariletto si sarà deformato ho preferito cambiare tutto visto che c'era ho cambiato anche la molla naturalmente e quindi ho dovuto cambiare il bariletto interamente. Bene amici spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto servito a capire quali costi e quali difficoltà ci sono dietro una revisione non sono tutte rose e fiori alcune sono più semplici altre sono più difficoltose e richiedono diciamo l'assistenza se così possiamo dire di personale specializzato soprattutto per quanto riguarda le forniture io fortunatamente nel mio cammino ne ho incontrati 3 o 4 davvero molto preparati ben forniti che però purtroppo danno un prezzo al lavoro che fanno ed è giusto mi sembra giusto che sia così come sempre il mio invito a quello di comprare orologi messi bene perché poi renderli splendidi ci vuole davvero poco diversamente comprare un rottame a meno che non c'è un motivo uno scopo recondito non sempre risulta essere conveniente quindi facciamo sempre attenzione a quello che compriamo deve essere tutto coevo e tutto a posto lo sapete che sono sempre disponibili per consigli consulenze ovviamente tutte gratuite per aiutarvi a scegliere il segnatempo più bello iscrivetevi al canale ragazzi perché è importante lasciatemi like e commento ci vediamo presto con un nuovo video ciao a tutti